VKPAC è un produttore professionale e affidabile di imbottigliatrici, tappatrici, etichettatrici. Forniamo soluzioni di imballaggio di qualità per il riempimento e l'imballaggio di bottiglie nei settori della cura della casa e della cura della persona, prodotti alimentari, agrochimici, chimici e oli lubrificanti per liquidi, creme, unguenti, fluidi e semifluidi. Integrando ricerca, sviluppo, produzione, marketing e assistenza in uno, forniamo una linea di produzione completa da biberon, lavaggio, riempimento, tappatura, sigillatura, etichettatura, astucciatura. Offriamo le macchine e le linee di grande impatto per la qualità e la produttività del tuo prodotto. Se hai bisogno di macchine riempitrici per il tuo processo di produzione, possiamo fornire una soluzione semplice o adeguata per soddisfare le tue applicazioni specifiche. VKPAC è un produttore professionale e affidabile di imbottigliatrici, tappatrici, etichettatrici. Forniamo soluzioni di imballaggio di qualità per il riempimento e l'imballaggio di bottiglie nei settori della cura della casa e della cura della persona, prodotti alimentari, agrochimici, chimici.